Non riuscivo più a respirare, ho chiamato il 118 e mi sono venuti a prendere a casa. Hanno subito visto che avevo una polmonite interstiziale bilaterale, col tampone ha confermato poi che avevo contratto il Covid-19, quindi il coronavirus. Fausto Russo, a 38 anni, è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Cioè questo caso è pressurizzato, è pressurizzato, quindi tu pensa come se fossi nel casco di un astronauta, capito? A volte devi chiamare anche l'infermiere per bere con la cannuccia, c'è un buchettino, ti aprono e devi bere, poi non puoi fare più niente. E sei cosciente? Sei cosciente, sì, sei cosciente. Però non dormi perché poi c'è un rumore, perché poparia, un secondo diventa un minuto, ti chiudi in te stesso. Quanti giorni è stato con questo casco addosso? Sei sei giorni. A me sono sembrati sei anni, però mi dicono sei giorni. Sento e leggo sui soci, c'è gente che si annoia, non sa come fare, eccetera, eccetera. Io qua ho visto gente morire, io qua ho visto gente che come me costantemente lotta per poter respirare meglio. E ti posso garantire che prova a stare in apnea, a chiudere, a partire bocca e naso e vedi che brutta sensazione che è. Come sei a tratti, ti mettessero con la testa sott'acqua. Allora devi avere una grande forza di volontà, di animo, di controllo. Ho creduto probabilmente di non svegliarmi più. Ecco perché non ce la fanno molte persone, perché è troppo forte. È forte davvero questo virus. Scene che non avrei mai pensato di vedere in vita mia. Fabrizio ha 72 anni, ha passato 10 giorni in ospedale a Bergamo. Non è mai stato intubato, quindi riesce a raccontarci quello che ha visto intorno a lui dalle prime ore in pronto soccorso. C'erano pazienti ovunque che rantolavano, ansimavano, avevano difficoltà a respirare. C'era chi urlava e chi chiamava addirittura la mamma. Continuavano ad arrivare ogni 10 minuti, un quarto d'ora, sentivano solo una sirena, prendevano e scaricavano. C'erano queste infermiere che si mettevano la tuta, il camice, la mattina, e dopo 10-12 ore se la toglievano, erano un bagno di sudore. E senza un lamento, senza niente, anzi cercando un po' di confortare le persone. La fatica a respirare di queste persone, che facevano di tutto proprio, da metterti in condizione di capire, qui sto soffocando. E lì erano tutti, la maggior parte era in questa situazione. Quando venivano chiamati dai parenti, erano loro a confortare i parenti, dicono, non abbiate paura. Dall'altra parte del telefono, è difficile non capire che chi ti chiama ha difficoltà di respirare. E nonostante ciò, loro cercavano di consolare gli altri, di dire, vedrete, va tutto bene. E poi la solitudine in cui morivano, proprio, morivano accanto in pratica. Quante persone ha visto morire Fabrizio? E lì, visto, non si vedevano perché c'erano praticamente le luci quasi spente. Si sentivano solo... Ogni tanto portavano via una barella, ne entrava un'altra al suo posto, così. Praticamente una situazione di anonimi, anonimi morenti.